da poche ore è uscito un nuovo video di chiara d'alessandro dal titolo mega all primark barbie the movie e tanto altro in questo video chiara precisa che è dovuta andare in ben due giorni diversi da primark perché le cose più pucciose le stavano ancora mettendo il video inizia con la presentazione di una maglietta di spongebob un cartone che chiara vedeva quando sua figlia sharon era piccola questa maglietta fa parte di un completo da notte un pigiama per intenderci ma per lei le maglie di primark anche se di un pigiama sono fatte anche per uscire sì ha detto così ora quale bambina metterebbe il pigiama per uscire e poi arriva un bellissimo beauty rosa a marchio barbie coperto da pelliccia sintetica come da descrizione sito di primark vi riportiamo il link nell'infobox che sicuramente farebbe felice qualsiasi bambina al mondo e poi torna un'altra maglia di spongebob tutta gialla da usare come camicia da notte come maglietta per andare al mare insomma una maglietta per ogni occasione e poi seguono giacca con zip in abbinamento con pantaloni a zampa entrambi velour adatti per l'autunno inverno fucsia sempre con brand barbie poi è il turno di un'altra maglietta stavolta con il personaggio della disney lo stregatto che sul sito primark viene definita t-shirt da notte ma per chiara come al solito può essere usato anche come vestito maxi t-shirt e via dicendo altro giro altra corsa e si passa a dei pantaloni che chiara dice fatti a leggings di spongebob con cui si può anche uscire e poi arrivano le ciabatte di barbie nera e rosa pantaloni della disney altra maglietta di spongebob una maglietta di lizzie mcguire e un asciugamano sempre con brand barbie da indossare come fosse un vestito insomma ha comprato un sacco di cose da regalare a qualche bambina davvero tante anche se le taglie ci sembrano un po' grandi ma poi arrivano finalmente due pantaloni classici da donna che erano in saldo che sicuramente saranno per lei però dobbiamo dire la verità tutto ciò che ha comprato lo ha fatto per indossarlo lei ebbene sì una donna di 45 anni si è comprata pigiami di barbie spongebob e disney che a suo dire potrebbero anche essere usati per uscire e chissà se li userà per uscirci per davvero ora una persona può essere un po' eccentrica ed ognuno si deve esprimere in libertà ma alle volte il buon senso dovrebbe prendere il sopravvento noi speriamo che usi tutti questi acquisti solo nelle mura domestiche a voi piacciono i suoi acquisti condividete la sua scelta